L'orientata di Cusè è un collaboratore di strada e noi abbiamo questo tipo di progetto che prevede la sperimentazione a scala pilota di una tecnologia tipicamente una tecnologia piuttosto innovativa, quindi ha poche idee, poca applicazione, per la quale è necessario valutarsi nel campo per i benefici e quali sono le prestazioni. Come abbiamo raccontato prima, è particolarmente interessato se qualcuno volesse fare un trial o anche un collaboratore di trial, eventualmente è fatto ciò che sono presente e così vediamo a morire questo studio di applicazione. Bene, Steve, you will stay with us all day? Ok, Steve sarà con noi durante tutta la giornata, quindi qualsiasi domanda potete ricordare. Ok, now we move forward, now it's time for Karel to join us. Karel ci presenterà una tecnologia per condizion l'assesso delle domazioni della ricerca perdita. Prima.